Uomini e donne, Sara e Sony si tra pochi giorni, ci è una dolce sorpresa. Fiori d'arancia a uomini e donne. La notizia è arrivata come un fulmine, Sara e Sony si sposano. E ci sono anche i dettagli, come ad esempio la data. Dopo anni di tira e molla. I due hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio. A lanciare il gossip è stato a Medeo Venza che ha annunciato tra le sue storie di Instagram che Sara, Shime e Sony di me o convoleranno presto a nozze. E, oltre all'amore, c'è chi ipotizza che la velocità nella decisione di sposarsi sia dovuta ad una cicogna in arrivo. Sarà davvero così? Maria De Filippi, chi è l'autore del selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo, ha postato la foto, poi si è cancellato dai social. Kate Middleton, il segreto nascosto, cosa cela il cappotto della principessa del Galles alla parata. Mamedeo ha svelato anche la data, il matrimonio si celebrerà domenica 5 marzo. Che lo abbiano organizzato di corsa è chiaro, ma forse questa fretta di sposarsi nasconde un'altra grande sorpresa. Per ora i diretti interessati non hanno rivelato nessun dettaglio in più. Oltre alle nozze. Ma la storia di Venza è stata ripresa da Dejanira Marzano che ha aggiunto anche un altro particolare. Dejanira ha scritto, ci sarà anche una dolce sorpresa. Queste parole hanno scatenato un nuovo gossip sulle nozze, Sara Shimey è incinta del primo figlio con Sony. Bisognerà attendere il 5 marzo. E oltre, per avere più dettagli. Intanto, i fan sognano. Sara e Sony dopo uomini e donne hanno deciso di creare la loro famiglia. Un indizio aveva fatto pensare alle nozze e così sarà, il matrimonio di Sara e Sony ci sarà domenica prossima. Tra pochissimi giorni. Non resta che attendere per scoprire se la dolce sorpresa è l'arrivo del primo figlio o altro. Iutè stui plin de dude, tu meretate printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru vivo-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt. De la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo. Grasul nimeni altu, Delvede sau Carpo.